Tradito dall'agitazione, arrestato poi da carabinieri per detenzione illecita di sostanze superfacenti, nei guai un 35enne di Mussolente che nascondeva in casa marijuana cristalli di metanfetamina e una busta con denaro contante per quasi 2.200 euro. Tutto iniziato da un controllo di una pattuglia dell'arma nel parcheggio Parco della Vittoria Mussolente, l'uomo alla vista dei militari, attentato di disfarsi di uno spinello che stava fumando, gettandolo agitato sul tappettino dell'auto. Gli agenti, notando lo stato d'ansa del 35enne, hanno controllato la vettura trovando una bustina contenente 7,5 grammi di marijuana e nel portafoglio 250 euro in banconote di piccolo taglio. Immediata la perquisizione nell'abitazione del misquilese, trovato nel bidone di plastica della camera da letto un sacchetto trasparente con all'interno oltre 55 grammi di marijuana nascosti in un armadio invece 3 grammi di metanfetamina, tabacco sfuso e contante per oltre 2.000 euro. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto ai domiciliari nella propria abitazione.